Minacce percosse contro padre, sorella e cognato sotto l'effetto dell'alcol. Un 54enne riminese finisce sotto libertà vigilata. Esce per andare al ristorante e al rientro trova la casa svaligiata. I gnoti mettono a segno un colpo da 50.000 euro in via della fiera. A Rimini gli aumenti dei costi per il trasporto pubblico non ricadranno sugli utenti, lo annuncia l'assessore alla mobilità Frisoni. Basket, nel derby di Forlì niente da fare per RBR con Johnson debilitato dall'influenza. L'Uni Euro prende largo da subito Rimini mai in partita. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro TV ed Icaro Play. Una riminese di 54 anni è stata sottoposta a libertà vigilata con l'obbligo di effettuare cure e controlli periodici al servizio per le dipendenze patologiche, dopo che negli ultimi due anni i familiari sono stati costretti a denunciarlo più volte per maltrattamenti in famiglia e per lesioni personali aggravate. Rovinato dall'alcol, ogni volta che tornava a casa dal lavoro ubriaco perdeva la testa per nulla. In quei frangenti diventava violento e nessuno riusciva a fermarlo. A farne le spese sono state in svariate occasioni la sorella, finita più volte al pronto soccorso, il padre novantenne e il cognato, anche loro costrette a ricorrere alle cure mediche. Vi ammazzo tutti, io vado in galera, ma quando esco vi ammazzo, aveva amminacciato i familiari tempo fa al culmine dell'ennesima lite. Neppure davanti all'anziano genitore, il 54enne, riusciva a trattenere i suoi impulsi aggressivi. Lo scorso novembre, ad esempio, mentre litigava con la sorella, si era scagliato contro il padre, spintonato a terra con violenza. Nella caduta, l'anziano aveva sbattuto la testa contro il pavimento, riportando un lieve trauma cranico. Andò peggio al cognato, colpito con una testata in pieno volto, o alla sorella, afferrata per i capelli, strattonata e spintonata contro una porta. Le indagini condotte dai carabinieri di Misano e coordinate dal pubblico ministero Davide Ercolani, hanno permesso di ricostruire la serie di maltrattamenti e percosse. Il GIP del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha infine disposto per il 54enne la misura di sicurezza della libertà vigilata. L'indagato, oltre a sottoporsi i trattamenti terapeutici necessari per curare la sua dipendenza dall'alcol, dovrà comunicare all'autorità di pubblica sicurezza il luogo dove fisserà la propria dimora o ogni altro luogo dove nel corso della giornata potrà essere solitamente reperibile. Pena l'aggravamento della misura di sicurezza, con il conseguente internamento in una residenza protetta. È uscito per andare a cena al ristorante e una volta rientrato ha trovato la casa svaligiata. Ladri in azione a Rimini in Via della Fiera due sere fa hanno atteso che un professionista riminese uscisse di casa per intrufolarsi alla ricerca di oggetti preziosi. Dopo aver rovistato in armadi e cassetti, hanno trovato due Rolex dal valore complessivo di 50.000 euro in un comodino in camera da letto. Dopo il furto sono arrivate le volanti che hanno svolto i primi sopralluoghi. Non sono emersi segni di effrazione. I ladri, evidentemente dei professionisti, hanno agito senza lasciare tracce. Gli uomini della squadra mobile a cui sono affidate le indagini stanno effettuando accertamenti e la pista della banda di ladri dell'est Europa specializzata in colpi in abitazione resta al momento quella più battuta. Il riminese, ancora scosso per la preziosa perdita, è assicurato contro i furti. A Rimini, anche nel nuovo anno, i costi del carburante aumenteranno, ma non aumenteranno invece per gli utenti quelli del trasporto pubblico locale e saranno mantenute anche le agevolazioni previste finora. Lo annuncia l'assessora alla mobilità, Roberta Frisoni, parlando di una scelta presa per non far pesare sugli utenti gli aumenti dei costi. Il comune di Rimini prosegue la Frisoni ha la ferma volontà di mettere in campo le misure per promuovere un modo di muoversi orientato alla riduzione dell'inquinamento e alla salvaguardia dell'ambiente. Dai trasporti via terra a quelli aerei, secondo i dati di Asso Aeroporti, in Emilia-Romagna nei primi dieci mesi del 2022 il sistema aeroportuale ha registrato una significativa crescita sul 2021 sia in termini di voli più 71,4% che di passeggeri 7,7 milioni in totale con un più 135,5%, in aumento anche se ridotto la movimentazione delle merci più 12,3%. L'aeroporto Fellini di Rimini ha registrato un aumento di quasi il 211% sul 2021 per un totale di circa 205 mila passeggeri in dieci mesi. La maggior parte dei passeggeri è di tipo internazionale, voce che segna un più 329,9%. Nei primi dieci mesi al Ridolfi di Forlì i passeggeri sono stati invece 73.700 con un più 181,4%. Per la Biblioteca Gambalunga continua la ripresa dopo le limitazioni causate dal Covid. La Biblioteca Comunale di Rimini ha presentato il consuntivo del 2022. Nel 2022 la Biblioteca Gambalunga di Rimini ha accolto oltre 130.000 persone rispetto al 2021 più 116%, ma ancora inferiore rispetto al dato pre-Covid. Si conferma l'interesse da parte dei ricercatori. Sono stati oltre 4.400 i documenti, manoscritti, periodici storici, libri antichi, fotografie dati in consultazione. 80 gli eventi tra laboratori di lettura, presentazioni con gli autori, conferenze, mostre e concerti partecipati da oltre 10.000 spettatori. Più di 800 ragazzi delle scuole superiori e oltre 600 della scuola primaria hanno preso parte agli incontri a loro dedicati. Il libro più prestato dell'anno è 3 di Valérie Perrenne, seguito dalla saga I leoni di Sicilia, di Stefania Aucci e dalla figlia dell'Accendere, di Ilaria Tutti. Le letture preferite dagli adolescenti sono La fattoria degli animali, di Orwell, e Il treno dei bambini, di Viola Ardone, insieme a Come uccidono le brave ragazze, di Holly Jackson. Alla biblioteca dei ragazzi, tra i libri più richiesti, Io sono foglia, di Angelo Mozzillo e dell'illustratrice riminese Marianna Balducci. Gli organizzatori del villaggio di Natale al Parco Fellini di Rimini hanno deciso di prolungare di una settimana l'apertura delle attrazioni che proseguiranno così fino al 15 gennaio nella pista di pattinaggio su ghiaccio da 500 metri quadri fino all'8 gennaio e poi nei giorni festivi e prefestivi l'orario è 10, 13 e 14 e 30 a 22. Da lunedì 9 a venerdì 13 la pista di ghiaccio è invece aperta solo nella fascia pomeridiana dalle 14 e 30 e continuano anche gli spettacoli sotto il tendone del Christmas Circus Show. Parliamo di basket. Il 2023 è iniziato con la partita più sentita della Romagna della palla a spicchi, il derby tra Forli e Rimini. Con il suo realizzatore principale Jeff Johnson fortemente debilitato dall'influenza, Riviera Banca nulla ha potuto per contrastare la capolista Unieuro che ha condotto le danze per 40 minuti. Il 2023 si apre con la sfida più sentita della palla a spicchi romagnola, il derby tra Unieuro e Riviera Banca. Si gioca all'Unieuro Arena davanti a 3500 spettatori, 450 da Rimini. Rimini a Johnson ha scartamento ridotto a causa influenza. Forli parte con una 7 a 0 firmato Valentini e Adrian. E Capitan Bedetti dall'arco a rompere il ghiaccio per Riviera Banca, 7 a 3. Rimini si riporta a meno uno dopo il canestro di Masciadri, 8 a 7. Due triple di Adrian permettono all'Unieuro di doppiare gli ospiti, 14 a 7. Dopo cinque punti di fila di Gazzotti i padroni di casa toccano per la prima volta la doppia cifra di vantaggio sul 19 a 9. Il primo quarto si chiude sul 26 a 18 con l'Unieuro che vanta un eccellente 5 su 6 da 3. E con un'altra tripla di Radonic si apre il secondo parziale, 29 a 18. Penna griffa il più 13, 31 a 18. Quattro punti di fila di Anumba e un canestro pesante di Landi riportano RBR a meno 6, 31 a 25. Ma il solito Adrian, Pollone e Sanford, al primo canestro della sua partita, fanno volare i locali sul più 15, 40 a 25. Divario con il quale le due squadre vanno all'intervallo lungo, 46 a 31. Nel terzo parziale dopo un primo e 40 secondi senza canestri, Rimini si ravvicina, sospinta da Ogbeide e Bedetti, 46 a 37, a meno 7 primi e 49 secondi. La reazione dell'Unieuro è da capolista. Valentini, Pollone, Gazzotti e ancora Valentini per il controbreak del più 19, 58 a 39. A meno tre prime 25 secondi dalla terza sirena, il più 20, 60 a 40, dopo l'ennesimo canestro di Adrian. Al trentesimo il tabellone segna 66 a 47. Rimini cerca di rientrare con 5 punti di Anumba, 2 di Johnson e 3 di Meluzzi, 70 a 57, a meno 7 prime e 10 secondi dalla fine. Ma Valentini scrive la parola fina a suon di canestri, 80 a 59. La tripla di Radonic fissa il massimo vantaggio sul più 28, 87 a 59. Un parziale finale di 6 a 0 chiuso da Dalmeida fissa il punteggio sull'87 a 65. Bisogna fare i complimenti a Forlì che ha giocato una partita obiettivamente maiuscola la prima della classe. Noi dal canto nostro, come era successo a Pistoia, se non siamo coi giocatori importanti nelle condizioni ottimali, non siamo competitivi per un livello così alto. Penso che per la nostra società sia un ulteriore momento di stimolo il fatto di essere tornato a giocare certe partite davanti a certi pubblici perché come sempre una squadra neopromossa deve vivere certe emozioni e deve passare da determinati percorsi. Non siamo contenti, non piace l'andamento della partita, il modo in cui siamo usciti dal campo, avremmo voluto essere più competitivi, non siamo riusciti a esserlo e questa cosa obiettivamente dispiace. Però dobbiamo guardare avanti tra 72 ore siamo di nuovo in campo, speriamo che Ogbeide non abbia nulla di grave al ginocchio, giochiamo un'altra partita altrettanto impegnativa contro 100. E siamo al riepilogo dei principali fatti del 2022 che si è da poco concluso attraverso i nostri servizi. Oggi siamo al mese di ottobre, un mese che ha lasciato una profonda ferita. Una tragedia devastante per il numero delle vittime e per la realtà speciale che colpisce. Per un terribile tamponamento avvenuto il 7 ottobre sulla 4 in Veneto, perdono la vita sette persone del Centro 21 dirette in Friuli per il fine settimana. I cinque ragazzi ospiti del Centro, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Luigi, Valentino Baldi e Alfredo Barbieri. L'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, pilastro del Centro e la responsabile educativa Romina Bannini, che si spegne pochi giorni dopo in ospedale. Il funerale è celebrato lo stadio Nicoletti in una riccione sconvolta dal lutto. Loro sono già tutti insieme in paradiso, l'ho già detto, lo ripeto. Sono la nostra guida in questo momento. Chiediamo a loro che ci indicano la strada giusta, soprattutto per tutte le altre famiglie che sono rimaste, per tutti gli altri ragazzi che contano su quello che con Massimo e la Romina avevamo iniziato. La città ci ha imparato a conoscere piano piano e non ci ha abbandonato. Stavolta è stata veramente commovente la compagnia che ci hanno fatto. Questi nostri ragazzi hanno ormai aperto una strada, ci hanno fatto vedere che è possibile desiderare una vita piena. Siamo una piccola famiglia che fa grandi cose e ora abbiamo sette motivi in più per farle con ancora più forza. Vi amiamo. Punto. È la procura dover chiarire la dinamica dell'incidente in via Uterpa a Rimini che costa la vita al 78enne Sant'Arcangiolese Roberto Sancisi. Alla guida della sua auto si scontra con un mezzo impegnato nei cantieri per la nuova viabilità. Per il patrono San Gaudenzo, Monsignor Lambiasi tiene il suo ultimo discorso all'autorità da Vescovo di Rimini, con richieste specifiche. Abbiamo chiesto e ci diamo al comune di Rimini di impegnarsi nel confermare e promuovere con rinnovato vigore l'impegno del comune nei percorsi di educazione e formazione al dialogo, alla pace, alla cura del creato. La cultura riminese è il lutto per la scomparsa del regista Teode Luigi. Il suo ultimo lavoro è lo spazio che vive, film dedicato al Ceis e a Margherita Zebeli. Dopo il rinvio per il lutto cittadino, il 20 ottobre Riccione festeggia il suo centenario con una festa Villa Lodi Fè. Nel basket l'impatto di RBR con il ritorno in A2 non è facile. Dopo tre stop con Ferrara arriva il primo successo. Il meteo, sempre più fuori controllo, crea scenari surreali con un'estate fuori stagione e tuffi in acqua il 31 ottobre. Un'acqua frizzante, pulita, trasparente, ottima per fare il bagno, anche fine ottobre, giorno 31 ottobre. Siamo in conclusione. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e le nostre app, quella di News Rimini e quella di Icaro Play. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione e l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti.